Eccolo il fischio finale, vittoria per il Milan Sono i campioni al termine di una stagione stimolante e massacrante Immagino che i festeggiamenti andranno avanti fino a notte fonda Se lo meritano davvero, Pier Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Mattuta Sono stati molto bravi ad aprirsi un bar con la difesa avversaria Hanno sfruttato al meglio il calcio piazzato Beness La mette dentro e adesso è tutto in parità Beness Occhio al tiro Balotelli Balotelli Ecco il tiro Super Mario Balotelli E c'è il gol Numero Che giocata Bacca Attenzione Rete Sono riusciti a pareggiare Questo può essere il punto Vente che grande entusiasmo per il gol che vale il vantaggio Realizza il calcio di rigore Realizza il calcio di rigore Allontana il difensore Buona avventura Ed entra in rete Gol! Sarà un passo dal trionfo Oggi basta un pari Ma dopo questa rete Tutto sembra ancora più semplice Non è ancora finita Anche se No